Ed eccoci qui in un nuovo video ragazzi, nuovo video perché si sta per smuovere un altro top per il nostro campionato e per il nostro fantacalcio Beh, sto parlando di Robin Gosens che quasi sicuramente andrà all'Inter Cosa fare con Gosens e quali equilibri smuove il fantacalcio? Perché quando si sposta un giocatore del genere non dobbiamo mai considerare solo lui cosa andrà a fare Ma chi altro si smuoverà sia nell'Atalanta, quindi la squadra che lascia, sia nell'Inter, quindi nella squadra dove sta andando Ma prima di andarne a parlare iscriviti al canale se ami il fantacalcio e lascia un like a questo video A te non costa niente ma per me è molto importante e se vuoi cercami anche su Instagram, TikTok, fantagol-fantacalcio E andiamo a vedere cosa fare con Gosens e con gli altri Gosens si trasferisce dall'Atalanta all'Inter per 25-27 milioni bonus compresi In prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni comunque facilmente raggiungibili A giugno 2023, quindi comunque l'Inter prende il giocatore adesso ma lo paga di fatto alla fine della prossima stagione E per Gosens ci sarà uno stipendio da 3 milioni all'anno fino al 2026 Quindi buono stipendio per lui, buon affare per l'Inter se Gosens tornasse a performare come quello che era fino alla passata stagione Ora, cosa fai con Gosens al fantacalcio? Quindi andiamo ad analizzare Gosens, poi dopo analizzeremo tutti quegli altri che stanno smuovendo Gosens che va all'Inter, ok? Lui in teoria dovrebbe giocare a sinistra, quindi nel posto era occupato da Perisic Perisic giocherebbe sempre fuori ruolo a centrocampo, listato difensore Però, c'è un però Perisic sta andando bene Quindi Perisic, che probabilmente lascerà l'Inter a fine stagione, sta rendendo E in questo momento, infatti, se vedete, non gioca neanche Di Marco Se non qualche sporadica apparizione però nei tre centrali di difesa Quindi, obiettivamente, se io avessi Gosens e Gosens andasse realmente all'Inter Beh, allora io penserei di darlo via Cioè, il top sarebbe di scambiarlo prima di arrivare all'asta Perché in asta, comunque, non guadagnerai mai quanto Se tu riuscissi a convincere un tuo amico a darti un top o un semi-top in difesa per lui Soprattutto se è un tifoso interista, c'è caso che tu riesca a convincerlo Perché obiettivamente, sì, Gosens è un top, perfetto Viene da una stagione piena di infortuni Non sappiamo quanto giocherà Chiaro che lo pagano tanto, eccetera Quindi all'Inter giocherà Però io ho l'idea che in realtà lo abbiano preso Sia per avere una riserva per Perisic, per alternarli, va bene Ma più che altro in ottica prossima stagione Quando probabilmente Perisic andrà via Quindi l'idea, secondo me, è proprio quella che quest'anno si deve ambientare In questi sei mesi, poi dopo, dall'anno prossimo, sarà il titolare Quindi l'anno prossimo, probabilmente, Gosens è da prendere Ora, secondo me, è da dar via Poi tu puoi pensare di tenerlo lo stesso Perché comunque ci sarà del tuo nove nell'Inter Perché comunque non è affatto detto che Perisic sia sempre titolare Ogni tanto Perisic lo schiera in attacco Però adesso Dzeko è a posto, Correa è a posto C'è Sanchez, è arrivato anche probabilmente Caicedo all'Inter Quindi di surplus là davanti ne hanno Ora, Gosens, secondo me, è da dar via se va all'Inter Io lo darei via, però in uno scambio Poi bisogna vedere le regole che avete durante la vostra asta Perché se tu recuperassi tutti gli interi crediti che hai speso per Gosens Beh, allora tanto vale svincolarlo all'asta Perché ti fai su un pacco di crediti da spendere Vediamo cos'altro smuove Perisic Allora, Perisic probabilmente resterà titolare Sì, però ne giocherà qualcuno in meno Perché comunque uno spazio a Gosens glielo deve ritagliare O comunque uscirà più volte Quindi Perisic perde un pochino di appeal È comunque da tenere assolutamente Perisic Perché con il campionato che sta facendo Perisic ti aiuta tanto al fantacalcio Quindi Perisic è impensabile di darlo via Va tenuto assolutamente Ma andiamo a vedere un altro giocatore Che risentirà molto dell'arrivo di Gosens E parlo di Di Marco, ragazzi Di Marco ha acquistato da molti quest'estate Pensando che rimanesse titolare sulla fascia sinistra Poi è esploso nuovamente Perisic Perché comunque non è che parliamo di un giocatore compassato Comunque è esploso Perisic Per cui dopo Di Marco Che comunque stava andando bene Era partito forte Dopo Di Marco è stato ripiegato A riserva di Perisic o dei centrali di difesa Quindi Di Marco di fatto ora è una riserva Se arriva anche Gosens Beh, allora Di Marco, ragazzi Che già per me poteva essere svincolato O tenuto a mo' di ultimo slot Penultimo slot da far giocare Quando sapevi che c'era il torno dell'Inter E che avrebbe giocato magari contro una piccola così Beh, ora Di Marco per me è da dar via Perché di fatto è la riserva dei centrali dell'Inter E non gioca tantissimo Peccato perché quando c'è A volte batte anche i calci piazzati Batte le punizioni Ma ad ogni modo Ora come ora te ne fai poco Perché hai la certezza matematica Che quando entrerà Entrerà solo al posto di centrale difensivo E non più a centrocampo a sinistra Quindi obiettivamente Io Di Marco lo darei via Meglio se riesce a scambiarlo con qualcuno Che magari ci punta Così se no svincolalo in asta E cosa succede nella Dea, ragazzi? No, perché Adesso a meno che non facciano un nuovo acquisto Diciamo che resta uno slot libero A centrocampo a sinistra nella Dea E chi lo impiegherà, ragazzi? Qui c'è un po' il totos commesse Io non credo che arriveranno nuovi acquisti Perché di fatto se tu conti I giocatori che rimangono Sono comunque 4 per due roli Parlo di Atebor, Zappacosta Maele e Pezzella Ora, di questi giocatori sappiamo Che c'è Pezzella che gioca sempre a sinistra E Atebor che gioca sempre a destra Ok Maele e Zappacosta riescono a giocare Da entrambe le parti Soprattutto Maele Perché Zappacosta secondo me Rende di più a destra Comunque Comunque Considerato il fatto che Quando ce l'ha a disposizione Solitamente Gasperini preferisce tenere a destra Atebor Fateci caso Quando è in forma In grado di giocare È quasi sempre a titolare a destra Atebor Per cui io credo che La fascia a destra Rimanga ad Atebor La fascia a sinistra Per me Se la gioca Molto Zappacosta Quindi Zappacosta È da tenere assolutamente Perché può giocare Sia a titolare a sinistra Che Fare da riserva Ad Atebor a destra Alternarsi con Atebor Comunque sia Ci sarà anche del turnover Per le coppe Eccetera Quindi Zappacosta È da tenere Qui il mio dubbio forte È Tra Pezzella E Maele Che fare? Io dicevo prima Maele È da dare via Perché Dicevo Torna Gosens Maele Già non viene Da una gran stagione A destra Sono molto coperti Quindi il posto Fisico per Maele Non c'è E ok Il problema Il problema è che poi Si è preferito Anche Pezzella Maele ultimamente Quindi Obiettivamente Sarebbe quasi Da tenere di più Pezzella Cioè da prenderlo Perché quasi nessuno Ce l'avrà Prendere Pezzella A modi scommessa A quel punto Tu hai che Pezzella Probabilmente Diventerà la riserva Di Zappacosta Che sarà titolare A sinistra E tu avrai Che Maele Sarà la riserva Sia a destra Che a sinistra L'idea sarebbe questa Però Pezzella Potrebbe fare un tot Di partite Comunque Anche da subentrante Poi ti basta Che ci sia Non so La squalifica di Atebor Gira Zappacosta A destra E a sinistra C'è Pezzella Quindi Pezzella È da andare a prendere Come scommessa Al fantacalcio Consideratelo Un sesto slot Di difesa Che poi Può anche salire Nelle gerarchie Non è che poti Sti gran bonus Però è un difensore D'Atalanta Una squadra che Bolla Bolla Quindi Pezzella Ci sa di prenderlo Maele Io dico che È andato via Gosens Avrà un pochino Più spazio Però Sarei per Darlo via Sinceramente Ne giocherà Qualcuna di partite Però Non è tanto La sua stagione E quando Atebor Sarà in forma Giocherà molto poco Quindi io penso Che lo darei via All'asta di riparazione Fammi sapere Che ne pensi Con un commento Qua sotto Cosa farai tu Se hai uno Dei giocatori Che ho citato O se punterai Qualcuno di questi Giocatori Se questo video Ti è piaciuto Ti chiedo un like E l'iscrizione al canale Soprattutto se Ammi il fantacalcio È gratis Non capisco perché Circa il 45% Di chi vede i miei video Non è Iscritto al mio canale Ed è gratis Cercami su Instagram E su Instagram e TikTok Fantagol Trattino basso Fantacalcio E c'è anche la piattaforma Viola Fantagol Anche lì E poi Se stai cercando spunto Per la tua asta di riparazione Vieni a vedere Questi due grandi eventi 1 febbraio Ore 21 Asta di riparazione Del fantacalcio YouTube Italia 2 febbraio Ore 21 Asta di riparazione Del fantacalcio Fanta YouTuber Due vere asti di riparazione Live Vedrai chi svincoleremo Chi prenderemo E come ci muoveremo Come strategie Sarà molto interessante Per te Che dovrai ancora fare La tua asta Così avrai Tanti tanti spunti Ciao E buon fanta a tutti E buon fanta a tutti